Il capo ha uno switch che permette di spostare il lato B prima del lato A o dopo il lato A. Questo ci permette ad esempio di spingere ulteriormente il suono del canale A. Al contrario potremo usare il lato B dopo il lato A per ottenere un clean boost ad esempio. Grazie per la visione!